Le eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo riunite per sostenere il progetto di ricerca 500 Children with Cancer Change di Napoli per conoscere il panorama dell'ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo dei trattamenti personalizzati. E' tutto pronto per lunedì 20 giugno per accendere i fornelli ed alimentare la solidarietà con chef, pizzaioli ed artigiani che daranno vita alla quarta edizione di Buonissimi, l'evento dell'Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma Open dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica. La quarta edizione che torna in presenza dopo lo stop causa Covid, realizzata sempre con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e di Unicredit con il progetto Carta Etica, ideata e organizzata da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, si terrà lunedì sera a partire dalle 19.30 presso le rocce rosse dell'Oitz Bajotella a Vietri sul Mare. Anche quest'anno sarà un viaggio di gusto tra i profumi e i sapori del territorio, una festa in nome della vita che nel cibo trova nutrimento e attraverso il cibo dona speranza per un prestigioso appundamento a fondo sociale. Stamani a Palazzo di Città Salerno la presentazione dell'evento ha affidata alla dottoressa Anna Maria Alfani, presidente dell'Associazione Open Ollus, biologa professoressa di matematica che dalla tragica morte della figlia Giulia ha trovato il coraggio per aiutare chi vive la sua stessa situazione. Dopo due anni siamo veramente emozionati, come se fosse la prima volta. Quest'anno sosteniamo un importantissimo progetto di ricerca, Shans, che mira a trovare le terapie individualizzate in modo da poter portare la ricerca dal banco del laboratorio al letto del malato. Quindi non più protocolli uguali per tutti, ma terapie mirate all'individuo. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi sponsor, che io ringrazio veramente con tutto il cuore. Una partecipazione entusiasta da oltre 150 tra chef, ristoratori, pasticceri, pizzaioli. Insomma, la migliore rappresentanza enogastronomica campana. Tutti, nonostante le difficoltà, devo dire, che hanno colpito anche la ristorazione in questi due anni di Covid, hanno risposto veramente con entusiasmo. Quindi uno sforzo enorme di cui sono veramente grata.